Con il vice sindaco di Ortona Serafini che ha illustrato nel corso della serata in cui l'amministrazione ha illustrato i primi 100 anni di attività amministrativa anche che cosa ha svolto lui con le sue deleghe e sono state fatte tante cose nonostante i 100 giorni sono pochi. Certamente poi in materia di ambiente, di investimenti, opere pubbliche sicuramente è solo il lungo periodo quello che consente di vedere risultati. Abbiamo gestito cantieri cominciati dalla vecchia amministrazione, abbiamo aperto un cantiere già finanziato sulla metanizzazione di alcune frazioni e soprattutto stiamo monitorando le problematiche ambientali del territorio che sono quelle che destano allarme e quindi sulle quali dobbiamo stare molto attenti. Diciamo che 100 giorni passano veramente in maniera velocissima. Siamo certi che però l'esperimento che abbiamo fatto questa sera, quello di aprirci alla città, di dire dopo i primi tre mesi quello che abbiamo fatto e che vogliamo fare. Abbiamo parlato degli investimenti, di queste opere pubbliche importanti, di una pista ciclopedonale che vogliamo realizzare anche sul territorio. Il tempo non c'è stato per dire tutto. A gennaio, diciamo dopo Natale, ogni semestre questa amministrazione si apre alla città per dire chi ci vuol sentire, chi vuol sapere quello che abbiamo fatto e quello che vogliamo fare venga e ci ascolti.